Sono nate a Tramonti le prime case dell'acqua che adesso vanno per la maggiore, lo rimarca con una buona dose di orgoglio l'amministrazione comunale tramontina che sottolinea soprattutto come al risparmio si unisca alla soddisfazione di impegnare acque delle sorgenti locali. E' l'acqua delle nostre sorgenti e praticamente siamo arrivati a circa 1700 litri al giorno, ciò significa risparmiare non solo PET ma togliere inquinamento e nello stesso tempo far risparmiare i cittadini perché se voi pensate che una cassa d'acqua gli costa 45 centesimi a fronte dei 2 euro che pagava prima, in un anno se vi fate due conticini sono circa 250 euro.